E' stata presentata ieri a Marina D'Arechi la 48esima edizione del Giffoni Film Festival che si terrà dal 20 al 28 luglio. 100 opere di cui 11 italiane in concorso nelle 8 sezioni competitive richiameranno a Giffoni Vallepiana 5601 giurati provenienti da 52 paesi del mondo. Ma nel ricco programma c'è tanto altro. 13 anteprime, 6 eventi speciali, 28 film tra eventi, maratone e rassegne, oltre 90 talent e ospiti da cinema, musica, tv, web, scrittori, autori, imprenditori e rappresentanti delle istituzioni. 9 Meet the Stars riservati a 8000 fans non in giuria, 5 sezioni masterclass con i nomi più interessanti della scena cinematografica, radiofonica, televisiva, musicale e green. Fra gli ospiti che sfileranno sul water carpet, Figarra e Picone, Alessandro Siani, Rocco Papaleo, Francesca Chillemi, Diana Del Bufalo e Elenia Pastorelli. Grazie.